Un cordiale saluto, ben ritrovati e ben ritrovate ad A2x2. La trasmissione è realizzata da Trentino TV in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Oggi è la prima puntata di questa nuova serie che inizia per il 2024 e siamo con il Presidente del Consiglio Provinciale di Trento, Claudio Soini. Ben arrivato nei nostri studi, Presidente. Grazie Marilena, buongiorno a te e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, in questa ripresa della trasmissione proponiamo i ritratti dei nuovi consiglieri che sono entrati in questa diciassettesima legislatura per poi concludere questo primo ciclo con quelli che sono stati riconfermati alle elezioni di ottobre 2023. Allora, dicevamo, iniziamo con il Presidente, non potrebbe essere altrimenti, proponiamo subito questa scheda, una sorta di ritratto. Vediamo. Claudio Soini è nato il 5 giugno 1960 ad Ala, dove tuttora vive con la moglie e con le due figlie. Ha conseguito il diploma di perito industriale edile presso l'Istituto Tecnico Industriale di Trento, specializzandosi in edilizia. Al termine degli studi ha intrapreso la carriera di perito edile come libero professionista con apertura di un proprio studio tecnico di progettazione. Quella per la politica è una passione che nasce tra gli anni 80 e 90. Nel 2010 si candida come consigliere comunale alle elezioni amministrative del Comune di Ala, risultando eletto. Nell'ottobre dello stesso anno si candida per le prime elezioni della Comunità di Valle, dove viene eletto nella Comunità di Valle della Valla Garina e dove viene poi nominato assessore, con delega ai lavori pubblici e alle attività economiche, carica che ricopre fino al 2015. Nel maggio del 2015 si candida per la prima volta alle elezioni comunali di Ala in qualità di sindaco. Viene eletto per la prima volta, si ripresenta poi alle selezioni comunali di Ala nel 2020, dove viene riconfermato sempre come sindaco. Dal 2015 al 2023 è stato anche assessore e consigliere del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, dal 2020 con deleghe assessorili di urbanistica e ambiente. È stato nominato nel 2019 da parte dei sindaci della Valla Garina all'interno del CDA dell'APT di Rovereto, Valla Garina e Montebaldo. È stato eletto in Consiglio Provinciale nella lista Fugatti Presidente il 22 ottobre 2023. Ecco qui un breve ritratto del Presidente Soini. Abbiamo tratteggiato brevemente la sua storia personale ma anche politica. Allora, Presidente, come è stato il passaggio da primo cittadino di una città come Ala a Presidente del Consiglio Provinciale che, lo ricordiamo, è la più alta istituzione della nostra autonomia? Certo. Beh, innanzitutto mi incomplimento per la scheda perché è sempre bello vedere ripercorrere le tappe della nostra vita per cui davvero mi ha fatto piacere vedere questa scheda. Mamma mia, una domanda difficile perché il passaggio da sindaco a presidente è un passaggio non facile, soprattutto perché i ruoli sono estremamente diversi. Il ruolo di un sindaco è un ruolo operativo, è un ruolo che chiaramente ti mette a confronto ogni giorno con la tua comunità dove vivi, per cui sei continuamente sollecitato dalle persone che giustamente ti propongono i loro problemi chiedendo anche delle soluzioni. Quindi sicuramente un mondo assolutamente diverso rispetto a quello che sto vivendo in questo momento. Sicuramente un'esperienza nuova, un'esperienza entusiasmante, un ruolo diverso perché è un ruolo più politico, più istituzionale, sicuramente più di mediazione, più di equilibrio, però l'esperienza molto bella anche perché ti permette di affrontare a 360 gradi quali sono le problematiche dell'intera comunità trentina. Prima seguivi la comunità dove vivi, per cui la comunità del tuo comune, ora hai cambiato sicuramente paradigma e segui materie diverse cercando di poter incidere, di fare al meglio il proprio mestiere. Sicuramente il suo ruolo di sindaco la facilita nel guidare l'aula, proprio perché il ruolo suo ora è quello di facilitare appunto il dialogo, il confronto tra maggioranza ed opposizione. Quindi la sua passata esperienza sicuramente la agevola? Ma direi assolutamente sì perché a parte insomma che come si è visto dalla scheda faccio politica attiva, istituzionale dal 2010 in maniera quasi ininterrotta e quindi insomma l'esperienza che si è accumulata in questi anni dalla comunità di Valle al comune chiaramente mi ha portato ad avere un'esperienza e una sensibilità importante da affrontare anche con i colleghi consiglieri provinciali di ora. Quindi assolutamente un equilibrio che io sto cercando di trovare e che va un po' a travalicare quello che facevo prima da sindaco, che ribadisco però mi ha aiutato perché in consiglio comunale anche lì bisogna sempre comunque trovare degli equilibri fra la maggioranza e le minoranze. Quindi assolutamente un ruolo di mediazione che io sto cercando di portare avanti e anche perché lo dico sempre se riesci a trovare un equilibrio in aula si lavora assolutamente in serenità e normalmente in serenità si riesce anche ad avere visioni future diverse e più importanti per cui non lavorare in emergenza se possibile ma in serenità e guardate che trovare l'equilibrio in aula credo che sia sicuramente una cosa assolutamente importante quindi sì, fare sindaco mi ha aiutato molto e credo che questo possa anche essere riconosciuto ed apprezzato. Uno dei primi provvedimenti dell'aula è stata l'approvazione della variazione al bilancio della provincia sostanzialmente la legge numero 3 del 2024, vogliamo tracciarne brevemente i contenuti principali? Sì, prima della variazione per la vita il giorno prima e il giorno 4 abbiamo affrontato un altro disegno di legge molto importante che era il disegno di legge sui grandi carnivori, anche lì è stato approvato e il giorno dopo abbiamo iniziato la tre giorni che ci ha portato all'approvazione della variazione del disegno di legge per la variazione di bilancio. Tante le materie e le problematiche toccate e voglio premettere da subito che anche lì c'è stata sicuramente una collaborazione fra le varie forze politiche una collaborazione importante che ha fatto sì che si potesse approvare questa variazione di bilancio senza nessun voto contrario ma con dei voti di astensionismo e dei voti favorevoli per cui questa è anche direi una buona soddisfazione, dopo anche lì, dopo aver ricercato equilibri aver ricercato mediazioni perché le sensibilità politiche devono esserci perché così dice ovviamente la nostra democrazia. Quindi un disegno di legge importante perché ripeto le priorità sono tante una di queste sicuramente il contratto collettivo, di fatti con questa approvazione si è potuto mettere a terra, adesso si usa un po' questo termine di moda, si sono messe a terra delle risorse importanti che provenivano da quell'accordo di San Michele del settembre del 2023 firmato appunto dal governo e dalla nostra provincia, delle risorse che appunto hanno portato a far sì che si concretizzasse quello che sono le risorse definitive da mettere in campo per il contratto collettivo dei dipendenti pubblici, poi si è parlato anche di tante altre cose, delle concessioni, delle grandi derivazioni elettriche, si è parlato anche di aiuto per le aziende, le attività produttive che hanno la loro sede in prossimità delle aree chiaramente dove si parla di circovaluazione qua a Trento, si è parlato di concorsi, di personale, di direttori d'ufficio, insomma veramente un disegno di legge importante che ha visto anche lo stralcio di un articolo dove si parlava di alberghi dismessi, anche lì si è provato ad affrontare un problema estremamente importante che è quello della casa, della mancanza di alloggi nella nostra realtà trentina, quella era sicuramente un provvedimento che verrà affrontato adesso il mese prossimo in maniera più compiuta dove si vuole appunto ragionare su come trovare nuove soluzioni abitative per i lavoratori. E lo sappiamo che questo è un tema davvero molto importante e molto sentito, abbiamo pochissimo tempo Presidente e che cosa si prefigge di fare nel corso del suo mandato, magari diciamo sottolineiamo la cosa più importante, la sua priorità. Innanzitutto quello di fare bene, questa è la priorità, voglio portare avanti, implementare quel progetto importantissimo Conosciamo Autonomia, già iniziato negli anni passati che noi stiamo cercando di riproporre, di implementare e di portare avanti perché il tema autonomia è importantissimo, stiamo lavorando con le scuole, stiamo coinvolgendo migliaia di ragazzi, questo è un progetto che ci piacerebbe ulteriormente implementare e migliorare sicuramente. voglio incrementare i rapporti con le municipalità anche tramite degli eventi dedicati a loro, stiamo parlando con il mondo dell'esilabilità, per cui insomma vorrei che emergesse bene qual è il ruolo del Consiglio Provinciale della nostra provincia di Trento, un ruolo assolutamente importante, un'assemblea legislativa dove si parla del futuro del Trentino e dove il Trentino deve conoscere dov'è, dov'è sita l'autonomia e dove si svolgono queste tematiche e si parla di queste tematiche che affrontano il nostro futuro. Bene, grazie Presidente, le auguriamo naturalmente buon lavoro ed è tutto per questa prima puntata di A Tu per Tu con il Presidente del Consiglio Provinciale di Trento, Claudio Soini. Grazie di averci seguito, arrivederci. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro.